C'è un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi, quello è il grande prato dell'amore. Eccola qui la cittadella dello sport finanziata e realizzata dal presidente della Cremonese Arvedi come centro della società sportiva Grigio-Rossa. Una vasta struttura sulla via Postumia con 5 campi da calcio, 3 in erba e 2 sintetici. All'interno un punto ristoro e due settori, uno per le giovanili e uno per la prima squadra. In mezzo sale mediche e una palestra, previste anche una biblioteca e una sala stampa. Gli interni verranno arredati entro luglio e a settembre l'inaugurazione.